Eeeh! Dai 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 vai! Ha 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 ha! Uno su mille ce la fa! Stai a vedere che sei proprio tu! Come? Buona? Me la fai assaggiare? Eeeh! Si vede che sei un esperto! Non ti sfugge niente! Il teatro degli orrori mette in scena se stesso o loro stessi visto che quest'album è eponimo è il teatro degli orrori questa volta che cosa succede in scena rispetto al solito riguardo voi riguardo le vostre facce, riguardo quello che sentite sul peso del palco? Subito una domanda difficilissima Eeeh... bah che cosa succede? Intanto dobbiamo ricordarci che cos'è un concerto visto che sono due anni che non ne facciamo uno in realtà quello che è sempre successo credo cioè... a noi piace... ehm... fare quello che facciamo dando il massimo di noi stessi e... e di solito succede che la gente lo percepisce per cui si crea qualcosa di unico ogni volta non è che ti posso dire che ogni volta succede la stessa cosa perché non è vero però... vabbè... stasera poi sarà un po' particolare insomma anche l'emozione primo disco prima data... scusate... ultimo disco esatto... ultimo disco prima data ma vuol dire che senti il debutto però perché lo sentiamo un po' come un debutto De brutto De brutto lo sentite De brutto e ci farete sentire di brutto si suppone visti i volumi si lave la dovete mettere via proprio stasera a tappi allora appunto il fatto è che sapremo veramente che cosa sta per accadere una volta che sarà accaduto qua fra qualche ora se vuoi ne riparliamo possiamo riparlarne l'importante poi sarà sentirci però a sentire il disco poi viene voglia anche di rileggere quei testi che come ogni volta ci avete abituato hanno un contenuto importante questo disco ancora una volta parla di politica ne parla in modo più massiccio e parla di politica nel vero senso della parola anche con un'immagine che è l'immagine vostra di una band che è un'immagine che sostituisce un testo l'unico testo all'interno del libretto ti stai riferendo a una donna a questa fotografia qui vogliamo affrontare subito l'argomento questa ragazza è una profuga sta camminando questa è la sua mamma la sua mamma tiene per mano la sua sorellina siamo vicini al monte Sinair quindi siamo nel Kurdistan iracheno stanno scappando dal cosiddetto stato islamico il Mitra gliel'ha regalato presumibilmente lo YPG l'unità di autodifesa del popolo kurdo quella maschile non quella femminile ma non è certo il reporter potrebbe avergliela regalato un familiare o degli amici questa ragazza secondo voi quanti anni ha? quanti? ma perché tu già lo sai non dovevi rispondere ne ha 14 questa ragazza ora io penso abbiamo pensato di non pubblicare il testo perché innanzitutto perché il testo nel booklet del cd il testo di questa canzone è mancante non c'è ci sono tutti gli altri ma non c'è questo così come ovviamente nella versione in vinile perché la foto la fotografia è decisamente sufficiente a se stessa questo ci sembra palese ma soprattutto perché il testo è la descrizione di questa fotografia una descrizione naturalistica quello che vedo quello che vediamo ma ha anche una descrizione allegorica metaforica perché questa fotografia qui parla di noi io mi chiedo come sia possibile interrompere la fanciullezza di un essere umano così bello e mettergli sulle spalle un mitragliatore per scappare da che cosa? dalla nostra indifferenza sta scappando questa ragazza e questa famiglia dall'indifferenza che da decenni noi ignari e ignavi portiamo nei confronti del popolo kurdo quindi questa fotografia parla di noi altro che e naturalmente però parla di se stessa io credo che la cosa più sorprendente di questa immagine sia la serenità dello sguardo di questa ragazzina e questa serenità speriamo di essere riusciti a in qualche misura in qualche modo a trasmetterla attraverso la canzone è una canzone piuttosto epica un po' prog se vogliamo nel nostro repertorio io ci sento no? un po' di King Crimson se vogliamo quindi è una canzone un po' sinfonica in cui volevamo celebrare la bellezza del popolo kurdo che è tutto quanto negli occhi di questa ragazzina stupenda grazie quello che avete sempre messo come immagine all'interno del disco è comunque un'atmosfera a volte desolante a volte che diventa forzatamente desolante o per forza desolante altre volte delle metafore come il carro armato rock del primo album dove sono? visto che si parlava di leva si parla in questi giorni di leva dove sono i fiori invece? beh io ne vedo tanti intorno a me sono qua io ne vedo tanti in questo momento intorno a noi io vedo soltanto fiori la musica unisce le persone e quali unisce poi? una musica come la nostra non soltanto la nostra è chiaro ma quando c'è nel rock e noi facciamo rock siamo dei rockettari impenitenti quando c'è autenticità genuinità e c'è contenuto si possono dire raccontare grandi cose ma il fenomeno in realtà è interessante perché unisce le persone i cuori delle persone ne suona le corde di quei cuori tutti insieme è per questo che è importante la musica perché è un fatto aggregativo di quella parte di persone che esiste dentro la nostra comunità e che è bella i fiori io sono convintissimo di questo nel senso per essere chiaro siamo pochi ormai in questo paese di cervelli senzienti siamo pochi ma siamo bellissimi non ci resta che unirci e c'è un partito che non unisce più le persone sembra c'è un inno al contrario a un partito c'è una lettera a un partito in un certo senso in questo album che cosa hai ancora di quel di quel tempo di quel pensiero da attivista ma io ho militato nel PD per un breve periodo della mia vita non ho più la tessera dal 2010 quindi sono passati già cinque anni ma se avessi continuato a tesserarmi al partito e vorrei dire io mi rendo conto di avere di fronte a me persone che uomini donne e che non si sarebbero mai sognate in vita loro di prendere la tessera di un partito o tanto meno del partito democratico ma io vabbè la tessera non ce l'ho più ma se ce l'avessi avuta fino a ieri l'avrei bruciata a questo punto l'avrei stracciata il partito democratico è diventato nel giro di pochi mesi il suo esatto contrario il partito democratico erede del partito comunista italiano di Enrico Berlinguer del quale ancora oggi ricordiamo la figura moralizzatrice e quanto ce n'è di quanto bisogno c'è di combattere la corruzione la corruttura in questo paese oggi più che mai il partito democratico erede del PCI è diventato nel giro di pochi mesi un vero partito di destra europeo iper liberista ha sconfessato tradito attraverso l'esercizio del potere di un nuovo gruppo dirigente che con il sotterfugio si è impadronito del partito democratico vorrei ricordare quelle primarie le famose primarie aperte a tutti che furono raccontate dai media dai media furono raccontate come un straordinario esempio di democrazia all'interno nessuno li obbligava certo appunto nessuno li obbligava aprirli a tutti era sì democratico ma era anche aprire a cane porci capiamoci a Salerno Renzi prese le primarie per la segreteria del partito qualcosa come l'89% il 98% non ricordo bene comunque una percentuale bulgara qualcosa non funziona in questi casi qui è evidente quindi attraverso il sotterfugio questo nuovo gruppo dirigente ha trasformato il partito democratico in un partito di destra non sarà una destra populista ma è sicuramente una destra menzognera come lo è tutta la destra che c'è in Italia mi sembra anche importante parlare di una cosa una genesi una nuova genesi quella di questo ultimo album che è avvenuta negli scorsi mesi è stata una gestazione comunque abbastanza lunga e maturata immagino vorrei sapere quali sono stati per voi i momenti più belli da ricordare di questa registrazione lunga no scusa se ti in realtà gli altri dischi ci avevamo messo molto di più a scriverli questo ma forse il momento più bello che mi viene in mente è stata la prima prova che abbiamo fatto che abbiamo fatto circa due anni fa appena abbiamo smesso di suonare a sangue freddo ci siamo trovati a febbraio mi sembra e abbiamo deciso di scrivere in sei è la prima volta che insomma il gruppo affronta una scrittura con degli esterni che poi non lo erano già di fatto perché voglio dire erano con noi sul palco da più di un anno e è stato strano perché in tre giorni di prove anche il tempo di mettere giù la roba microfonare capirsi abbiamo fatto tre brani completi di cui due sono finiti esattamente come li abbiamo suonati nel cd che abbiamo del demo mettiamola così sono finiti identici nel disco cioè non abbiamo cambiato una virgola forse qualche nota in qualche punto ma proprio ecco quando ti succedono queste cose qua che non so come dire la musica si scrive da sola ti rendi conto che non sei proprio tu che comandi non so come dire è l'energia che si crea ed è bello perché nel caso nostro è nata sul palco cioè Cole e Marcello sono stati di supporto all'inizio ma poi in realtà è proprio quello che si sviluppa che si sviluppava e si sviluppa mentre suoniamo che cioè comanda quella cosa là quando abbiamo iniziato a scrivere insomma ci siamo abbastanza almeno io mi sono stupito non era forse mai successo forse era successo all'inizio inizio evidentemente con due persone che portano un entusiasmo nuovo è una storia nuova al momento forse la cosa più bella che ci è successa deve ancora succedere io spero che debba ancora succederci degli ultimi anni questo facciamo parlare i ragazzi dei diretti interessati i colpevoli no è interessante ma in verità in quel momento là che ha detto Giulio anche per me è stato importante perché io poi ciascuno viene da storie diverse io erano anni in verità che non componevo con altre persone in una sala prove tutti insieme con gli strodeo era stata l'ultima volta ed erano passati boh sette anni otto anni no anche dieci anni quasi perciò anche per me è stato un momento veramente è stato bello rendersi conto di che attacchi gli strumenti ti metti a suonare e fai una cosa che tutti trovano il loro equilibrio all'interno di quello che si sta improvvisando in verità in quel momento ed è ed è vero che ti rendi conto proprio che è la musica veramente che decide che tu non è che conti tanto giustamente beh visto che ti hanno parlato già di prima io ti dico del durante le registrazioni che in realtà è stato anche quello un processo molto interessante nel senso che abbiamo lavorato in maniera collegiale nel senso che l'apporto di tutti è stato continuo con continue revisioni e lavori sui vari pezzi che avevamo steso oppure partiva da un'idea di di Pierpaolo poi la mettevamo a posto eccetera e anche con Jonathan questo processo è stato molto approfondito fino al punto in cui abbiamo steso più tracce di chitarre per lo stesso pezzo nel senso e questo secondo me è indice di un di un lavoro di insieme che che insomma ha funzionato in questi mesi qua cosa vuol dire per voi venire a suonare al Pedro anche Franz che lo vedo beh oggi è la prima volta che suona al Pedro in vita mia per me è un po' importante beh questo è un momento importante io invece no non è la prima volta che mi capita di essere qui a suonare l'ho capitato tante volte soprattutto anche agli esordi della mia carriera della nostra carriera eh ed essere qui è un graditissimo ritorno ma soprattutto è figo il livello simbolico che il Pedro concede alla nostra tournée perché ritornare sul luogo un luogo importante dei nostri delitti il il Pedro il CSO Pedro di Padova vuol dire anche però ritornare un po' alle non soltanto ritornare alle nostre origini vuol dire ripartire un po' tutti quanti da dove avevamo incominciato qui dentro questo in questa locazione in questo puntino nel paese è nato il movimento dei centri sociali del nord-est è nato un antagonismo è nato un fenomeno politico importante insieme a questo fenomeno politico c'è stata tanta musica ricordo le posse ricordo tante ma tanta bella musica che c'è stata eh in Italia eravamo anche una società un po' più sveglia e un po' più vigile meno meno manipolata dai social media anche perché non c'erano sono arrivati dopo insomma è bello essere qui ho questa sensazione il teatro degli orrori ha resistito in questi anni in questo decennio abbiamo dieci anni in questi giorni prego dieci anni giusti giusti siamo ancora un fanciullo e il Pedro è ancora qui ha resistito ben più di dieci anni insomma siamo dei resistenti via come l'erba cattiva quella che non muore mai dai social media arrivano però delle domande per il teatro e all'hashtag chiedilo al teatro sono arrivate diverse cose ma io prima preferirei far parlare il pubblico se ha qualche domanda ma quindi questo sarà il vostro ultimo album o pensate di farne altri? se troviamo i soldi per farne altri il titolo è quello giusto potrebbe essere l'ultimo di solito si usa il primo lo si chiama come la band ma guarda ti dico francamente è un po' presto per pensare se è l'ultimo perché non c'è nessun motivo che ci dovrebbe portare a smettere anzi ci ha fatto venire voglia di fare altre cose ed è molto probabile che passerà molto meno tempo rispetto a quello che è passato tra questo e il mondo nuovo per l'uscita di un nuovo disco cioè se se le cose vanno come ci stiamo sentendo probabilmente il prossimo disco lo facciamo anche l'anno prossimo cioè non è non siamo assolutamente in un momento di crisi perché poi i gruppi si sciolgono o per decessi o per crisi perché altrimenti non saprei perché dovrebbero farlo insomma se non hanno problemi noi oggi non ne abbiamo vediamo quando abbiamo finito il concerto però che cominciamo ad avere una certa età è molto carina la tua provocazione perché in realtà nasconde una piccola ma importante verità almeno per come la vedo io cioè ogni disco che abbiamo fatto noi nella nostra nella nostra carriera si può sempre essere l'ultimo della tua carriera ma anche nella misura in cui lo senti come il tuo disco definitivo ma finalmente hai raggiunto con l'obiettivo là poi passa il tempo e ti rendi conto che l'obiettivo non l'hai ancora raggiunto che c'è ancora molto da fare il bello di essere band è questa cosa qua dico io cioè vivere in un clima progettuale tanti anni della tua esperienza artistica e questo continuare a progettare e a pensare a nuovi obiettivi che sono artistici che sono musicali che riguardano la musica riguardano le parole per quanto riguarda me ad esempio riguardano moltissimo il modo in cui io cerco di narrare le cose che avvengono intorno a me nelle mie canzoni io questo disco lo sento tanto più definitivo dei precedenti ho riascoltato il mondo nuovo qualche settimana fa te ne parlavo Giulio e insomma mi sono un po' commosso perché l'ho trovato un po' naif no? sia nei testi se vogliamo nelle parole che addirittura nella musica questo lo trovo molto più fresco molto più molto più maturo comunque ovviamente noi stiamo vivendo un gran bel momento come band e siamo molto creativi cioè siamo galvanizzati dal nostro lavoro e abbiamo non lavoro lavorio dal nostro lavorio di questi giorni qui abbiamo una gran voglia ad esempio come diceva Giulio di dire un momento di pausa della tournée alla prima occasione possibile ci rimettiamo in studio e pensiamo ad un nuovo disco è proprio un bel momento questo per il teatro degli orrori meno male grazie Davide chiede quale ruolo ricopre nel vostro percorso quella paura che raccontate nel secondo brano del disco quale ruolo ricopre a livello narrativo beh io credo che insomma sono tanti anni sono decenni che ci sono che ci stanno instillando tante diverse paure dentro dentro di noi la paura il diverso fra queste diverse paure indubbiamente quella che salta più agli occhi la più macroscopica ma la paura per i poveri per gli stigmatizzati per gli emarginati e la paura nei confronti di coloro che soffrono di disagio psichico se ne parla nel disco tutte queste paure le abbiamo abbiamo cercato di metterle insieme ho cercato di metterle insieme nella figura di un ex carcerato che se ne esce di prigione e nessuno ma proprio nessuno gli da una mano ed è esattamente ciò che accade in Italia perché non esiste una politica per quanto riguarda coloro che escono dal carcere non c'è nulla ti risbatto sulla strada e chi si è visto si è visto quindi è una canzone molto politica se vogliamo però tutto è politica perché quel carcerato quell'ex carcerato potrebbe essere un precario potrebbe essere un disoccupato potrebbe essere un clochar potrebbe essere un emarginato sociale quello quello che quello che volete voi indubbiamente però questa paura dentro la società italiana c'è e ce la stanno insegnando da un sacco di anni anzi direi decenni c'è persino un partito se ricordo bene si chiama Lega Nord che ha fatto della paura la sua arma politica cruciale e della discordia la sua strategia sono decenni che si semina discordia e paura nel paese e si raccolgono sono riusciti a raccogliere dei risultati politici sorprendenti tanto sorprendenti quanto preoccupanti ma la cosa più preoccupante è che non ce ne preoccupiamo più non dico noi che siamo qui dentro in questo momento ma la società italiana non se ne preoccupa più io ne ho abbastanza di questa gente così come ne avete abbastanza voi ne ho abbastanza di questi razzisti no? ma poi definire razzisti è un po' pochino perché che cos'è il leghismo se non un neofascismo tu cu noi cerchiamo di dirle queste cose nelle canzoni come immagino avrete possiate notare non lo facciamo nel segno della militanza politica lo facciamo raccontando delle storie quella del carcerato può essere una quella del sottoposto inflitto e del TSO può essere può essere un'altra lo facciamo raccontando delle storie perché privatissime angoscianti se vogliamo o spesso commoventi perché sono storie di un amore vero profondo intenso noi seguiamo questa strategia narrativa per riuscire a suonare le corde del cuore di chi ci ascolta di chiunque di tutti coloro che ci ascoltano non soltanto di chi la pensa come noi ma anche di chi non la pensa come noi nella speranza forse non vana che suonando le corde di quel cuore lì si possa anche riaccendere il cervello e riguardo le corde dell'indipendenza Barbara chiedeva quali sono cioè quanto è difficile adesso essere indipendenti e quanto è importante più che altro essere indipendenti oggi è essenziale essere indipendenti altro che se vuoi fare musica ora vi passo il microfono subito perché non voglio monopolizzare la conversazione ma essere indipendenti in questo momento storico della discografia in Italia è necessario è l'unica via in qualche modo perché il resto è occupato da tutt'altro non indipendente è occupato dalla televisione per cui è tutto un mondo che non esiste almeno per chi vive nella realtà normale insomma quindi arrangiarsi nelle major non c'è una cultura del rock non c'è spesso non si persegue nessun obiettivo di tipo culturale di nessun tipo si guarda subito immediatamente ai break even cioè al pareggio dei costi a quanto a quanto riesce a vendere un certo artista artista che poi cioè voglio dire uno che riesce a x factor un artista sarà una bella ugola ma un artista non è eh noi siamo artisti noi raccontiamo il paese loro non raccontano un bel niente loro si si fanno un manico di cazzi loro e noi ad ascoltarli pure oh io ultimamente mi sono abbonato perché è gratuito ad apple music conoscete? tipo spotify poi non me lo comprerò perché non mi comprerò il servizio perché non ci sono i carp i carp non ci sono ci sono solo le cose che sono delle che in qualche modo hanno un giro non lo so come funzionano queste cose qua comunque ho ascoltato ve lo giuro per due volte di fila mentre stiravo a casa io mi stiro le camicie e ho ascoltato l'ultimo disco di dolce nera io l'ho ascoltato con un intento antropologico conosci il tuo nemico dicono sì nemico quella croce rossa di nemico vabbè è veramente ributtante la musica leggera italiana e quanto più è ributtante tanto più a quanto pare nelle major sembra poter vendere nelle speranze di chi fa discografia in questo paese noi non abbiamo alternative dobbiamo essere indipendenti questa diventa una forza che poi è la forza di dire anche di proporre una sfida in qualche modo non solo noi eh ma anche non so Artist First che ha partecipato con i soldi che ci ha dato una mano a realizzarlo questo disco qui la sfida è quella di dire basta con questa musica commerciale insignificante proviamo a fare cultura anche attraverso la musica leggera il rock in in questo caso qui e vediamo se la sfida vale la pena giocarla questa bella sfida qui sì mi piace anche ricordare che l'Italia non ha sempre insomma negli anni 70 non c'era la musica popolare non era per forza odiosa come quella di oggi proprio per niente abbiamo una tradizione incredibile sembra essersi dissolta nel nulla un'altra cosa che mi viene da dire è che in questo paese qua lo spazio ha un certo tipo di arte in musica non è praticamente più stato dato nel momento in cui negli anni 80 sono venute fuori tutta una serie di meccanismi che hanno fatto girare diciamo il loro portafogli hanno capito che alla gente sostanzialmente diciamo alla massa non gliene frega troppo di quello di cui si parla l'importante è che ti faccia sorridere non si è più cercato di fare nulla per esprimere anche opinioni diverse di fatto manca uno spazio vero per chi non ha voglia per esempio di essere felice o farti sentire felice ma semplicemente bisogno di esprimere ciò che è dentro che non è per forza insomma uno può avere come noi rabbia indignazione cose del genere comunque ecco nelle major queste cose qua non te le faccio fare o se le faccio fare te le faccio fare come le fa Fedez che è un po' un furbino mi verrebbe da dire perché è facile fare diventa una sorta lì si diventa un riempitivo cioè hai capito fai il rivoluzionario di che? di niente sostanzialmente ed è un peccato che non ci sia lo spazio cioè secondo me è sempre stato un peccato che le major non si siano accorte delle realtà valide che ci sono in Italia cioè il Pedro ovviamente lo sa queste cose perché è uno dei pochi posti in cui si può suonare pochi posti insomma beh pochi posti tra virgolette liberi cioè non non è un locale non è insomma c'è della volontà dietro ed è un peccato perché si dicevo ci sono un sacco di gruppi che varrebbe la pena fossero promossi in un modo diverso e francamente il fatto che vabbè il digitale abbia contribuito al crollo della discografia e comunque a questo tipo di strutture che da migliaia di persone impiegate adesso si ritrovano poche decine nello stesso stabile per cui c'hai veramente i fantasmi che girano un po' mi vorrebbe dire se lo sono anche cercato perché poi alla fine voglio dire siamo qua stasera a noi i concerti sono sempre andati bene certo non vendiamo come dolce nera però siamo contenti che la gente venga a vivere il concerto che è la cosa fondamentale perché poi la musica è questo di fatto quindi se non hai uno spazio se non ti viene dato prenditelo giusto? sacro santo e direi di chiudere con l'ultima domanda che in qualche modo si aggancia a questo Alberto da casa chiedeva comunque che cosa vuol dire adesso trovare un posto quali sono i posti indipendenti quali sono i posti gli eventi o le cose dove riuscite ancora ad esprimervi dove sentite che è ancora possibile esprimersi quali sono anche le scene di etichette indipendenti o meno dove trovate libertà ma io sono poco ferrato però su cioè questa cosa dell'etichetta indipendente comunque va un po' sfatata secondo me perché un'etichetta indipendente più delle volte è un collettivo di artisti di professionisti o non professionisti del settore che decidono di progettare dei dischi di pubblicare dei dischi ci si dà una mano insieme indubbiamente quella come funziona attraverso il principio grazie al principio della cooperazione si coopera insieme ci si dà un obiettivo insieme e si cerca di raggiungerlo un po' com'è una band una band rock ci si dà sempre degli obiettivi insieme si coopera per riuscire a raggiungere quegli obiettivi cooperazione non vuol dire concorrenza noi non si concorre questa parola sembra ormai ce l'hanno osannata da nell'ultimo secolo direi la concorrenza ma io non riesco proprio a capire perché la vita debba essere una gara è molto più interessante sedersi un attimo fare un ragionamento magari fare due chiacchiere fra di noi e berci qualcosa di buono ma questa cosa di correre continuamente a me abbiamo avuto i coglioni ma tanto tempo fa è molto più interessante invece cooperare quindi darsi un obiettivo ed insieme ed insieme cercare di raggiungerlo io credo che se non è se non la cooperazione che cosa altro cioè la cooperazione è un un modo di essere liberi è un esercizio della libertà delle delle persone non è individualistico ma ma ci può anche essere l'individualista in mezzo non è questo il punto ad esempio io sono un individualista stirneriano stirneriano e sì voglio dire però anche l'individualista che sono sicuramente io scopre quotidianamente che cooperando cercando di fare insieme le cose agli altri allora sì che si riescono a raggiungere degli obiettivi veri no? e si riesce anche a goderne insieme e goderne insieme vuol dire godere di più non di meno ma di più quindi secondo me la libertà ce la cerchiamo e la troviamo ogni giorno proprio per il nostro desiderio di fare insieme le cose questo avviene sempre con l'etichetta con in un centro sociale in questo momento ad esempio siamo al CSA Pedro no? faremo qualcosa veramente insieme questa sera mamma mia qualcosa di importante eh sì perché poi i concerti non li fa solo la band che sale sul palco li facciamo insieme noi questa tournée qui ce la siamo pensata in sempre solo in venues almeno questa prima parte della tournée più piccola del solito perché vogliamo avere un rapporto organico fisiologico biologico se vogliamo con il pubblico e allora sì che ci divertiamo ci divertiamo noi perché per noi è appagante ma è appagante anche per chi lo guarda e lo ascolta un concerto perché lo faremo veramente insieme ho anche una cosa da dire riguardo alla scaletta che è una cosa che abbiamo scelto di fare eh ovviamente allora mi viene da dire magari io e Pierpaolo così che siamo quelli un po' più più vecchiotti andavamo ai concerti una volta il bello era andare a vedere un gruppo che non sapevi cosa stava per fare e l'emozione che provavi nel momento in cui scoprivi qualcosa che ti piaceva qualcosa di nuovo eh magari di sentito di sfuggita perché eri andato in un negozio di dischi avevi sentito il tempo che potevi sentire un pezzo una volta no ti ricordi con le cuffie compro il vinino lo compro no ma vengono a suonare allora vado a vederli e ci non facciamo un vero e proprio test però abbiamo deciso di fare tutto il disco nuovo di fila senza nessuna interruzione che viene dal passato perché ci piacerebbe provare a vedere se forzando un po' la mano riusciamo a far passare questa cosa del se non conosco un pezzo un brano eccetera non è un problema mi devo godere quello che sta succedendo in questo momento qua indipendentemente dal fatto che io sappia cantare la canzone o meno l'abbia già sentita o meno insomma portarsi il compitino da casa è diventato un po' una moda tu conosci già i pezzi non vedi l'ora di andare là al concerto e ovviamente sei più coinvolto nel momento in cui conosci la canzone che magari ti sei ascoltato a casa ti fa emozionare in un certo tempo in un certo modo però c'è anche questa l'emozione l'emozione del momento di quello che sta succedendo in quel momento là anche se non lo conosci a noi ha sempre dato tanto in realtà la cosa strana che abbiamo visto in questi anni è che si è proprio capovolta la cosa cioè molte persone non sono felici di vedere una cosa nuova mai sentita hanno bisogno di sapere che cos'è come se quasi fosse pericoloso quello che sta per succedere o forse non so è una roba strana per noi era esattamente l'opposto cioè era galvanizzante andare a casa con una cosa in più e non qualcosa che avevamo già portato noi e quindi vedremo che succede perché il concerto ovviamente di solito succede questo rimangono tutti così però sarebbe bello che vi lasciaste andare e anche il telefonino mi verrebbe da dire mettetevelo in tasca in guardaroba in guardaroba poi ognuno fa quello che vuole però insomma grazie intanto grazie intanto e visto che ci sarà un muro di suono vi invito solo a un'ultima riflessione sull'Europa fatta di muri che erano crollati e che stanno tornando qual è una soluzione per voi a parte una ruspa contro i muri stessi la ruspa la ruspa la userei come non so come dire la farei passare sopra a quelli che dicono che bisogna usarla la ruspa perché gente come Salvini io mi chiederei vabbè insomma trent'anni fa non sarebbe ancora vivo uno così e oggi lo è e questa cosa è abbastanza stupefacente perché una volta era importante anche quello che si diceva no? vedevo quello che è successo in questi giorni qua del tipo che ha sparato al ladro che gli è entrato in casa mi è entrato in casa mi stava minacciando gli ho sparato adesso sta venendo fuori che stava scappando e lui gli ha sparato alle spalle che è tutta questa è un'immagine di cosa diventa cosa sta diventando l'Italia cioè questo dorme con la pistola sul comodino a discordia di prima dovrebbe dormire con la pistola nel culo uno così e poi si è affacciato anche al balcone per ricevere i complimenti della cittadina sì sì no cioè i muri si tirano su perché perché queste paure qua sono indotte non ce le abbiamo dentro sono gli altri che ci dicono che ci fanno del male ma a qualcuno qua è mai successo qualcosa? perché se vogliamo usare la statistica perché poi questo bisogna fare a me sì sì vabbè ma te la sei cercata è ovvio vabbè ma scusa è ovvio che succedono degli eventi però non non sono di certo così massimizzati come vogliono farci credere e a me dispiace un po' per quelli che ci credono e un po' sono anche contento perché nel frattempo che questi millantano soluzioni intanto li rapinano hai capito? perché questo poi fanno e la lega e il governo dal 91 che cos'è? eh che cosa 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 ha cambiato? niente ovviamente però tu ti riferivi anche ai muri quelli veri internazionali sì io mi sono mi sorpresi quando vedi quale fu la reazione dell'Unione Europea circa un mese fa al massiccia ondata di profughi soprattutto siriani ma anche subsahariani iracchiani mi sorpresi per la buona volontà espressa in maniera così quasi incondizionata dal paese che è il cuore cuore dell'Europa non riuscivo a crederci quasi e infatti non è così perché c'è già un forte ripensamento a proposito delle ondate migratorie dovute che poi non sono ondate migratorie si tratta di rifugiati quando arrivano con le famiglie con i bambini si tratta di rifugiati che non ce la fanno proprio più ma a parte questo non è mai ma dico proprio mai stato affrontato né dall'Europa né tantomeno dal nostro pusillanime governo il problema di fare un ponte un vero e proprio un corridoio umanitario per poter rendere possibile l'accesso all'Europa a queste persone che vengono dalla disperazione economica o dalla disperazione politica dei loro paesi questa cosa non è mai stata fatta quindi purtroppo io vedo intorno a me a noi una profonda e temo ancestrale ipocrisia politica che è tutta figlia dei nostri tempi figlia dei nostri tempi sembra che non sia ogni qualvolta che si dovrebbe fare veramente la cosa giusta la si cerca la si narra la si auspica ma non la si fa mai poi noi italiani siamo gente che se non si ricorda neanche quello che è successo ieri viviamo in questo sempiterno quotidiano viviamo questa quotidianità continuamente reiterata non ci accorgiamo nemmeno nemmeno più che cosa è successo e non ci accorgeremo di che cosa di che cosa accadrà la musica può la buona musica quando è autentica e genuina e quando c'ha qualcosa da dire può contribuire e contribuisce ad un risveglio della coscienza in un paese lo ha sempre fatto nella sua storia the times they are changing di Bob Dylan divenne la colonna sonora di una generazione di rivoluzionari americani per dire contribuì al fenomeno dell'emancipazione del 68 e qui mi sono spinto lontano ma sappiamo benissimo tutti quanti che la buona musica può contribuire ad una rimodulazione dell'immaginario collettivo nel paese e dentro l'immaginario collettivo c'è la coscienza civile io mi spingo alla coscienza civile io dico questo che la buona musica può contribuire ad un risveglio di una ad una rinascimento di una coscienza civile degna di questo nome nel nostro paese sarà un obiettivo utopico sarà troppo lontano sarà troppo difficile non importa perché il cercare di arrivare di raggiungere quell'obiettivo è un percorso e quel percorso coincide con le nostre vite grazie un'ultima domanda prima di volevo fare una domanda più diretta a Pierpaolo prendendo spunto dai leghisti cioè leghisti nel senso che giocano con i lego non che siano nulla di più volevo citare un episodio che poi Pierpaolo scrisse in un saggetto delizioso su Carmelo Bene in cui e parlando di Casapown che cambiò il suo nome appunto riferito ai leghisti in Casabene e Carmelo rispose giustamente alla richiesta a qualcuno che gli chiese se era fascista con una pernacchia ecco proprio su Carmelo volevo soffermarmi cioè nel senso volevo dire al giorno d'oggi una figura di Carmelo un individualista appunto parlavi tu dicendo che sei un individualista al giorno d'oggi quanto sarebbe stirneriano al giorno d'oggi quanto sarebbe importante c'è un individualismo c'è un individualismo nel senso che non sia menefreghismo ma un individualismo che sia che sia un cercare di scoprire un po' più le radici di se stessi e andare oltre cioè superare il solito citazionismo un po' quello degli anni sessanta cioè ritornare un po' al mito degli anni sessanta e fare i rivoluzionari quando in realtà non c'è più nulla in cui credere ecco su questo volevo soffermarmi non c'è più nulla in quella in cui credere in cui credere nel senso è inutile ormai stare a credere nella sempre citando Carmelo Bene nella scorreggia drammatica di stato questo si si per tutte queste ragioni poi fu scambiato Carmelo Bene come un grande reazionario quando reazionario non era affatto lui seppe indubbiamente Carmelo Bene a modo suo sappiamo che non era un personaggio particolarmente simpatico in nessun campo neanche nel suo campo artistico specifico professionale se vogliamo lui comunque ebbe delle idee e seppe dire cose molto molto importanti al paese e naturalmente le seppe dire con il teatro con il teatro ma anche con la sua figura pubblica tu hai accennato quella pernacchia che fece Carmelo Bene quando gli fu chiesto ma lei è fascista lui risposta proprio che è la risposta esatta che poteva dare un Carmelo Bene a chi voleva in quel momento lì voleva insinuare la malafede del 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 maestro ma proprio in quella trasmissione lì lui citò io me la ricordo bene perché l'ho visto un sacco di volte Maurizio Costanza sì Maurizio Costanza era uno contro tutti qualcosa del genere lui citò lui citò e questa è una cosa che riguarda il nostro disco lui citò la lotta in quel momento c'era la lotta c'era lo sciopero quindi c'era l'agitazione sindacale dei minatori del Sulcis se ricordo bene questi minatori erano sottoterra da una quarantina di giorni no? da una quarantina di giorni per naturalmente per difendere il proprio posto di lavoro Carmelo Bene disse così scandalizzando i presenti disse ma perché questi minatori cerco di ricordarmi più o meno letteralmente le sue parole ma perché questi lavoratori devono rimanersene chiusi dentro una miniera sotto 200 metri cioè 200 metri sottoterra perché? perché devono mantenere le loro famiglie ma dico io disse Carmelo Bene ma non è meglio disfarsi una volta per tutte mandare a quel paese la famiglia e andiamo a prenderci una boccata d'aria lui lui toccò lui toccò un argomento e lo disse subito dopo la battutaccia diciamo lo disse in maniera piuttosto chiara e disse che la sinistra in questo paese qui siamo ancora nei primi anni 90 ma non è cambiato nulla anzi la sinistra non si è preoccupata di un argomento che è di un tema che è cruciale nella modernità e nella contemporaneità che è quello della liberazione dal lavoro e non soltanto la liberazione nel lavoro della liberazione nel lavoro ce ne siamo occupati fin troppo no fin troppo approfonditamente sto parlando delle relazioni industriali e naturalmente sto parlando anche del diritto del cittadino della cittadina di poter lavorare all'interno di una azienda chiamala come vuoi potendo avere tutti quanti potendo esprimere potendo esercitare tutti quanti fino in fondo i diritti di cittadino e di cittadina quindi non è che mi puoi licenziare perché ti sto antipatico ecco quindi sì certo la libertà la liberazione nel lavoro è assolutamente cruciale ma c'è quell'altra libertà che è quella dal lavoro perché se io vado in fabbrica otto ore al giorno a menare il bullone e una volta erano otto Dio Cristo perché adesso sono dieci dodici quattordici gli operai di Melfi ne ho assunti ho visto un reportage del ottimo Iacona o Iacona non ho mai capito come si dica sul sul Jobs Act ha dedicato nel reportage un paio di settimane fa l'ho trovato in rete un bel capitolo di quel reportage lì ai ne ho assunti della Fiat che non è più Fiat ma è quella cosa nuova eh di Melfi la fabbrica automobilistica più innovativa e più up tecnologically up to date del mondo e anche la più produttiva dove questi lavoratori vengono costretti a non mi ricordo più quanti turni diversi e quindi costretti a vivere la loro vita per anni in una sorta di continuo giornaliero mutamento del fuso orario e questi so contenti questi ne ho assunti dicono all'intervistatrice dicono con un bel sorriso sulle labbra lui e la moglie o lei e il marito dicono abbiamo un lavoro abbiamo qualcosa adesso c'hanno il contratto a tempo indeterminato eh solo che non c'è più l'articolo 18 e quindi io ti posso licenziare dannoti 5, 6, 7, 10 mila euro chi si è visto si è visto fuori dai coglioni va bene comunque questi ragazzi sono contenti di farsi spremere come dei limoni da questa macchina che è la fabbrica che è la Melfi di della come cazzo si chiama allora una cosa del genere era inconcepibile 70 anni fa questi ragazzi arrivano a a guidare un'automobile per 3, 4 ore al giorno per andare al loro turno questo non è più vivere questo allora che cosa è il lavoro nobilità l'uomo il lavoro e la donna e il lavoro ti dà dignità ma quale dignità quale dignità e allora se aveva ragione Carmelo bene facciamogli uscire da quella maledetta miniera vaffanculo alla famiglia e prendiamoci una boccata d'aria grazie a tutti grazie a tutti che tra l'altro volevo dire che il Sulcis è un posto meraviglioso in cui pensare di tirar fuori del carbone da un posto del genere è da folli perché ci sarebbero mille mille idee che potrebbero venire a chiunque che sta nel Sulcis da partire dal mare a qualsiasi cosa potrebbero inventarsi qualcosa a che fare con la loro terra senza tirar giù della terra fuori del carbone che è una tecnologia morta da secoli quindi boh viva il Sulcis grazie Zanata grazie a tutti il Teatro degli Orrori presenta il Teatro degli Orrori a dopo grazie a tutti a non dover rincorrere alla fine del mese ogni santo giorno che il padre eterno dispettoso concede alle nostre inutili vite